Ciao ragazzi siamo tornati qua per parlare della prima amichevole, del primo allenamento congiunto del Novara Inizialmente doveva essere contro il Cameri domani, sabato, in ritiro in Valle d'Aosta a Cetillon Ma nella giornata di mercoledì è uscita una notizia che ci sarebbe stato questo allenamento congiunto a Inter Ello nel centro sportivo di Suning Contro l'Inter, una partita che si è giocata ieri alle 18.30, non è stata trasmessa da nessuna parte Mi aspettavo che magari Inter TV la trasmettesse sul proprio canale che si trova anche su Dazon Perché di solito ad esempio quando il Novara aveva fatto questi allenamenti congiunti amichevoli contro il Milan Contro la Juve nei centri sportivi di Milan e di Juve C'era sempre stato Milan TV ad esempio che l'aveva trasmesso, mi ricordo, due anni fa nel 4-2 a favore dei rossonieri Ma non è stata trasmessa da nessuna parte quindi non si è potuta seguire Sono stati poi pubblicati gli highlights che adesso state vedendo, gli highlights dal profilo ufficiale dell'Inter Una partita che è finita 8-1 contro un Inter che era avanti di reparazione Credo che sia una settimana e mezzo che l'Inter si sta allenando Non è neanche la prima amichevole per loro, hanno giocato contro Lugano, contro anche il Monaco qualche giorno fa a Ferrara Mentre il Novara erano praticamente tre giorni che si stava allenando In questi tre giorni sono arrivati vari giocatori L'ultimo di questi è Gallupini, si è completato così il reparto d'attacco Perché abbiamo Gallupini e Bortolussi, abbiamo Gonzales, abbiamo Buric che è una valida alternativa C'è Baba Diop che in questo momento non è stato ancora emesso nessun comunicato ufficiale sul suo futuro Però l'abbiamo già visto anche in questa amichevole È stato presente, Baba ha giocato nel secondo tempo Può essere titolare della primavera, può essere anche una riserva per la prima squadra Poi chissà potrebbe arrivare un altro attaccante ma arriva solo se negli ultimi giorni di mercato si presenta un'occasione irrinunciabile In questo momento la squadra è quasi al completo Mancano quei due o tre tasselli importanti Urso che dovrebbe arrivare forse oggi, o oggi o domani Urso dovrebbe arrivare dalla Viterbese E manca un difensore Zebi è in pressing su Carillo Difensore del Messina che nell'ultima stagione ha fatto molto bene a detta Dei tifosi di Messina e dei giornalisti che hanno seguito la squadra siciliana Con l'arrivo di Carillo diciamo che la rosa sarebbe quasi al completo Mancherebbero quei 4-5 calciatori che non andrebbero a fare titolari Ma andrebbero solo a completare il roster del Novara della stagione 2022-2023 Galuppini, a differenza di Bortolussi che è arrivato a titolo definitivo fino al 2025 Unico calciatore per ora a firmare per tre stagioni Galuppini arriva in prestito del Sud Tirolo Un prestito di un anno con opzione Un anno fino al 2023 Solo questa stagione Parliamo un po' dell'amichevole Allora vi ho detto che è finito 8-1 Questo allenamento congiunto con la prima uscita del Novara Galuppini non c'era però ci sono visti praticamente tutti i nuovi acquisti Con due formazioni diverse A segno per il Novara tanto per cambiare Mattia Bortolussi Su rigore E' stato sfortunato o se vogliamo dire anche impreciso In un'altra occasione in cui Non dico a porta vuota però in una posizione molto invitante Ha preso la traversa con un colpo di testa Quindi ha sferato la doppietta Qualche teo anche di Pablo, di Buric Interessante Da segnalare le buone prove di Buric, di Vanieri e di Rocca Questi tre nuovi acquisti e poi ovviamente la prova di Mattia Bortolussi Che va già in gol Per l'Inter Per chi A chi interessasse Ha segnato Ha fatto gol Lukaku Ne ha fatti due Martinez Uno Zanotti Uno anche Barella A Dzeko E un altro gol Molto Molto sfortunato Di Ciancio Su un cross L'Autorio Martinez Voleva prenderla di testa Adesso lo starete vedendo anche voi negli highlights Voleva prenderla di testa Non l'ha presa La palla rimbalzata sul petto di Ciancio E ha fatto un Un pallonetto involontario di Giardens Gol anche di Bellanova Molto bello Di Giardens E' fatto vedere Con qualche parata Anche Pisardo Pisardo ne ha fatta una nel secondo tempo Lukaku Molto Molto bella E' sceso in Tempo 0 0,1 secondi E ha preso Un mancino Rasoterra di Lukaku Che era anche abbastanza angolato Leggiamo un attimo Le formazioni azzurre Che sono scelte nel primo tempo C'era De Giardens Ciancio Bonaccorsi E Scariano Della primavera Scariano si era già visto In qualche occasione Nell'ultimo Campionato di Serie D Mi ricordo era entrato contro il Casale Peli Calcagni Di Munno Rocca E Calò Anche lui Della primavera In centrocampo E Gonzales Burric Davanti Nel secondo tempo Invece Cambio di portieri Con Pisardo Ciancio Ancora in campo Perché ovviamente Non avevamo 22 giocatori Quindi qualcuno Ha fatto tutta la partita Bonaccorsi Cailoti Per la difesa Peli Cacinari E' un giocatore in prova Ranieri Sartora Anche lui Della primavera E Olivero Anche lui Della primavera In attacco Bortolussi E Bava Diop Con Galopini Che essendo stato ufficializzato Proprio ieri Non ha preso parte A questo allenamento congiunto Lo vedremo sicuramente Nella prossima amichevole A Shattillon sabato Al 17.30 Contro il Camiari A porte aperte Ci sono queste due Amichevoli Contro Camiari Poi contro la Torres Mercoledì Sempre più o meno Al 17.30 A porte aperte Aspettando La grande amichevole Contro il Monza Di Non di domani Non di sabato prossimo Ma quello dopo ancora Quindi Mancano ancora 8 giorni Che sarà visibile Su Sport Italia Come vi ho già detto Spero che sia a porte aperte Perché nel caso Fosse a porte aperte Io credo di riuscire Ad andarci Poi Ovviamente Oltre a vedere I giocatori di Novara Il Monza sta facendo Un bel calcio Mercato Ci sono Molti giocatori Interessanti Da Da vedere Anche Anche Nel Monza Quindi Questo test Amichevole Finito Finito 8-1 Alla fine Un risultato abbastanza netto Però stiamo parlando Di condizioni atletiche Differenti Poi è un Novara Completamente nuovo È un Novara Che si può paragonare Quello dell'anno scorso L'anno scorso Sì Era un Novara nuovo Costruito Nelle ultime settimane Ma anche qui Stiamo parlando Di giocatori Completamente nuovi Confermati Tre giocatori Di un portiere Di cui un portiere De Giardens Bonaccorsi E Gonzales Volete anche Aggiungiamo anche Di Munno Però Veramente Il nucleo Del nuovo Novara È completamente nuovo A differenza Dell'anno scorso Però Abbiamo un mese Per prepararci al meglio Il 21 agosto Inizia Ufficialmente La stagione Con la Coppa Italia Poi il 28 Ci sarà La prima di campionato Quindi C'è un mese Per trovare la quadra Sono Belle le parole Che ha detto Anche Marchionni Secondo me Ha completamente ragione Ha detto Che bisogna ricreare La magia Che si era creata L'anno scorso Che ha portato poi Il Novara Ad avere Un gruppo Molto compatto Un gruppo Che è riuscito Ad andare avanti E che Nelle difficoltà Che ci sono state Nel secondo Nel giorno di ritorno C'è stata Qualche difficoltà Evidente Dopo la parte Contro la Sarremese Ma anche prima Quando contro RG Ticino Ligorna Stavano mancando Le vittorie È stato un gruppo Forte Che è riuscito Ad andare avanti Bisogna ricreare La stessa magia Perché Anche Ferrante Continua a rivedere Che l'obiettivo È quello di Salire di categoria Queste parole Le ho già sentite In occasioni diverse In contesti Completamente diversi E con direttori sportivi Completamente diversi C'era Urbana Adesso c'è Ezebi Di cui mi fido Veramente molto di più Comunque Questo era quello che Volevo dire In questo In questo video Mancano giusto Ancora due tre colpi Da perfezionare Urso Dovrebbe arrivare In questi giorni Cario È una trattativa avanzata Per completare Diciamo Il nucleo I titolari Del Del nuovo Novara Poi Torneremo poi A parlare anche Delle altre amichevoli Sperando di andare a Monzo Di fare un bel video Dal Da Monzello Lasciate like Iscrivetevi al canale Ci vediamo nel prossimo video Sempre a forza No mare Nel bene Nel male Ciao ragazzi